Sì, devono sentirci. Sì, c'è un po' di raggola. Ragola e Mirtilli? Sì, c'è un po' di raggola. Buonasera, sono Pietro Spadafora, amministratore del marchio EPO. Finalmente siamo qui a Diano Marina. Siamo riusciti a posizionare il nostro negozio in una zona di elevato passeggio. Per noi era importante avere un negozio qui. Siamo riusciti ad aprire il negozio con persone stupende che sono Valerio e Silvia. Il nostro è un prodotto di elevata qualità organolettica. Abbiamo lo yogurt che sono tutti innanzitutto prodotti senza glutine e lo yogurt e il waffle sono senza lattosio. Quindi abbiamo cercato di soddisfare tutte le esigenze anche delle persone intolleranti. riusciamo a servire lo yogurt con dei fermenti lattici probiotici che ci consentono appunto di avere un prodotto simbiotico. Abbiamo qualcosa come 12 varietà di cioccolate, di creme comunque e 12 di frutta fresca. Quindi comunque la scelta c'è. Aspettiamo tutti quanti la cittadinanza di Diano Marina verranno serviti nel migliore dei modi. Quindi a questo punto io presenterei Valerio, la coppia Valerio e Silvia che sono i nostri ambasciatori sul territorio. Cioè noi li consigliamo ambasciatori perché è un prolungamento un po' della nostra azienda. Riescono così a far provare e a far assaggiare e gustare i nostri prodotti sul territorio.